Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Movoni al sesto appuntamento settimanale con S4, il talk show di Sportador.tv, la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Ottava edizione, questa trasmissione è nata nel 2012, sono 20 le puntate previste per il 2019. Ogni settimana ci vengono a trovare nei nostri studi di Milano quattro amici per parlare di sport e di turismo. Ringrazio chi è venuto in questa puntata, la sesta delle eventi previste. Cristian Gasperi, direttore delle funivie di Folgarida e Marileva, questa bellissima schiaria della Val di Sole. Dall'Alto Adige, da San Vigilio di Marebbe, Diego Clara, della società Alplan Evans, una società che organizza importanti eventi nel mondo della neve. E non solo, grazie Diego di essere venuto, Ruggero Ghezzi, direttore delle funivie della Paganella e Carlo Rodolfi, dello Sciclub Guastalla, uno Sciclub importante, storico, che organizza la Coppa Italia Master a metà marzo nella bellissima Val di Fiemme. Grazie Carlo di essere venuto. Vanno avanti i Master, giusto? E siamo qui con l'amico Carlo, che è dello Sciclub Guastalla, questa splendida cittadina nel cuore della Pianera Padana, fra Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Robagna, dove c'è uno degli Sciclub più importanti d'Italia. Siamo tra i primi dieci, Carlo, giusto? Sì, siamo tra i primi dieci, soprattutto perché rientriamo tra coloro che fanno più attività dedicata alle famiglie e ai bambini, in questo caso qua. È vero che possiamo ricordare il fatto che abbiamo, con gloria, abbiamo preso una medaglia anche dal presidente della FIS, Casper, attuale presidente in FIS, per questa nostra attività per le famiglie e per i bambini, nonché una medaglia anche dal presidente della Repubblica, appunto per questa attività qua, e rientriamo tra i migliori dieci in Italia su questo tipo di attività. Quanti bambini avete? Siamo intorno ai 210. Ogni weekend 200 bambini li portate in montagna? Sì, tra i 180 e i 200, grossomodo. Questa è la vostra, diciamo, attività come Sciclub. Ma voi siete bravi a fare i Master, dove a metà marzo, qui stiamo vedendo le immagini della scorsa edizione, portate quasi 500 atleti in Val di Fiemme per la finale. Sì, allora se mi permetti ti correggo un attimino, siamo intorno agli 800 atleti, perché ormai i numeri per fortuna aumentano, vuol dire che la gente piace questo tipo di evento che andiamo ad organizzare, vengono da tutta Italia, sono già ormai 18 edizioni della festa nazionale Master, nonché 4 edizioni delle finali di Coppa Italia che la federazione ci chiede di organizzare. È uno spettacolo perché alla fine, al di là del normale agonismo, c'è anche un discorso molto conviviale della parte un pochino gastronomica, in questo villaggio che poi magari ne parliamo anche più tardi, ma questo penso che sia racchiuto un pochino quello che è l'emblema oggi del Master, di colui che vuole divertirsi una giornata, fare sì gare, fare sì sport, ma fare poi anche un momento di socialità insieme e passare una giornata... Anche perché sono molto agguerriti questi Master, quante categorie ci sono? Ma le categorie sono innumerevoli, perché parliamo intorno alle 23 categorie, grossomodo, perché partiamo dai colori... Sei Master da over 35, over 40? Sì, 30, over 30 praticamente. Over 30. E andiamo fino ai novantenni, penso che la cosa più bella sia proprio vedere queste persone, dico over 80, stiamo un po' più bassi, comunque che anche con grinta, con il doppio sci, con la tutta da gara, si presentano al cancelletto per scendere, perché comunque hanno la passione all'interno. Con il tecnico personalizzato, l'allenatore di fiducia. Anche quello, anche quello. Vediamo anche queste case qua. Ma ripeto, ma lì vediamo proprio la salute delle persone che vogliono partecipare ancora con un micro agonismo, mettiamola così. Le iscrizioni sono ancora aperte per chi vuole venire qui. Quando è 13? No. Le date sono il 15, il 16, il 17, perché facciamo 5 gare tra la super gigante, gigante e speciale, in questo caso qua. con atleti che vengono da tutta Italia, pertanto l'anno scorso... Va bene, va bene, la puntata è molto lunga dopo questa presentazione, un evento importante da segnare in calendario. Carlo, è un bel, diciamo, un bel lancio per voi Sciclèb, queste parole dalle località scistiche, il lavoro che fate? Sì, sicuramente occorre la collaborazione con le stazioni scistiche, in questo caso qua, perché la collaborazione è fondamentale, per come diceva appunto, che lui per la passione che c'è oggi nelle persone, la voglia anche di uscire, di fare, se vuoi lancio anche una piccola battuta, perché finora si è parlato molto di panettoni, ma vorrei esagerare anche il fatto che nel mondo master i panettoni sono anche graditi nella parte del villaggio gastronomico, fondamentalmente, perché c'è la parte scistica. Da buoni emiliani, quindi il mangiare... No, dico, ci sta appunto quello, abbiniamo sempre quello che è la fase gastronomica, quella invece sportiva, ludica, eccetera, in questo caso. Però è vero, oggi comunque c'è un ritorno verso la montagna, perché c'è un ritorno della passione, della voglia di stare, di stare sulla neve, stare fuori, stare fuori e divertirsi anche, ecco, perciò non solo lo sci, come si intendeva una volta, ma oggi, voglio dire, questi momenti qua, di stare in compagnia, anche quella mezz'oretta in più, stare all'interno di un ambiente aiuta. E noi vogliamo puntare su questo, perché capiamo che oggi la gente vuole questo, gli agonisti vogliono questo, e la Coppa Italia oggi è un successo per questo motivo qua. La Coppa Italia è itinerante, è la finale in Val di Fiemme a metà marzo. 15-16-17 marzo, com'è che funziona? Un leggero cambiamento, quest'anno noi facciamo, ospitiamo le ultime 5 gare della Coppa Italia, mentre invece le finali vere e proprie quest'anno vanno fatte alla Betone. Questo per un discorso di rotazione, praticamente, perché giustamente non era giusto fare sempre le finali a Pampeago, perciò noi ospitiamo le ultime 5 gare della stagione di Coppa Italia 2019, mentre le finali vere e proprie verranno fatte al 31 di marzo sulla Betone. Su un'altra località storica della Toscana e dell'Appennino Tosco Emiliano. Grazie Cano, ora c'è la pubblicità, ma continuiamo a parlare di neve, montagne e sport invernali nella seconda parte di S4, puntata numero 6, non toccate il telecomando. A tra poco, dopo la pubblicità. Cari amici e telespettatori, ben ritrovati da Floriano Momoni, seconda parte della sesta puntata di S4, il talk show di sport dal punto TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport, puntata a questa, tutta dedicata alla neve, la montagna e gli sport invernali. manca un mese e mezzo circa di stagione invernale, con marzo fino a metà aprile, all'incirca, nelle varie stazioni sciistiche. C'è una grande stagione, come abbiamo visto nelle scorse puntate, anche in questa prima parte, sta andando molto bene. Allora, Sciclub Guastalla, con l'amico Carlo, parliamo di questo Sciclub, che è veramente importante, uno dei primi dieci in Italia, come numeri. Abbiamo parlato nella prima parte del grande lavoro, oltre 200 bambini che ogni anno, ogni weekend, vengono portati in montagna a sciare, questo fa bene allo sport italiano e alla salute dei ragazzi. Questa Coppa Italia Master in Val di Fiemme, 14, 15 e 16 di marzo, ma voi fate molta anche beneficenza, avete fatto delle motivazioni diverse. Sì, diciamo che anche per quest'anno abbiamo confermato l'accordo con l'Aism, associazione italiana Scalosi Multipla, ogni anno facciamo questi abbinamenti, anzi è un biegno che facciamo con queste associazioni, perché reputiamo che sia giusto lavorare e contribuire con chi fa della ricerca, un suo futuro di sviluppo, perché penso che sia il bene di tutti noi in questo caso. Pertanto anche quest'anno abbiamo pensato a questa associazione, ripeto, l'Aism, in questo caso qua, e quale buona parte dell'incasso che arriverà dalla Coppa Italia Master verrà devoluto a loro. In più abbiamo fatto anche un altro passo in più questa novità, perché abbiamo trovato un'azienda nel Veneto che producono prodotti ecosostenibili, in questo caso qua, biodegradabili, e pertanto abbiamo pensato di fare un villaggio ecosostenibile, che vuol dire che tutti i prodotti che utilizziamo all'interno del villaggio inogastronomico, vuol dire i bicchieri, i piatti, quelle che sono le forchette, i tovaglioli, così, è tutto prodotto biodegradabile. Questo perché pensiamo che sia un pochino anche il futuro questo, un pochino l'attenzione alla natura, perché non dimentichiamo che la stessa Val di Fiemme il 29 di ottobre ha avuto un bel disastro naturale con quel problema che è avvenuto con il tempo, con il vento che ha distrutto... Ha sconvolto mezza Italia, certo. Esattamente, pertanto ci sembrava giusto dare un segnale forte e far sì che anche, partendo dai bambini stessi, ma poi anche continuare con i master, ci sia questo segnale tipo continuiamo a operare per il bene della natura e per far sì che tutto ciò rimanga fondamentalmente. Perciò un villaggio, come lo chiamiamo noi, ecosostenibile in questo caso. Ultimo passaggio... Dove non mancano le cose buone, vedo però, perché ho visto dei bei brand, ho visto dei belli... Sicuramente... Bottine di lambrusco, bei formaggio... Quello è un pochino come catturare le mosche al miele, portare le mosche al miele fondamentalmente, tu fai la gara, finisci la gara, poi arrivi giù, guardi il villaggio, vedi che c'è una cosa particolare e sottolineo anche questo passaggio, anche quest'anno avremo uno chef, anche se alla fine non ha il bollino, ma lo chiamiamo chef, comunque un grande cuoco reggiano che verrà su nel villaggio a cucinare il famoso gnocco fritto reggiano direttamente sulla neve. Gnocco fritto e tigella, c'è di tutto, no? Sì, c'è un po' di tutto, perciò avremo la parte dei salumi, avremo il gnocco fritto che verrà tirato dalle persone sul posto nel villaggio e poi da fare qualcosa di particolare, perché il parmigiano reggiano... Però non può mancare, allora ricordiamo 14, 15, 16 e 17... No, 15, 16 e 17 marzo a Panteago in Val di Fiemme. Grazie all'amico Carlo. Carlo, avete tanti partner che vi supportano in questa vostra iniziativa, sia come Sciclub, ma anche come Coppa Italia Master. Sì, sicuramente sì, tanti in questo caso qua. E qua faccio una sottolineatura. Abbiamo fatto una scelta, un pochino anche se vuoi radicale, controtendenza, di rinunciare a qualche partner, perché lo reputavamo poco etico nella nostra mentalità. Vado sul concreto, erano due partner di scommesse, in questo caso qua, che si erano proposti per sponsorizzare la Coppa Italia e dare una mano anche allo Sciclub, perciò con la nostra iniziativa dei bambini, in questo caso qua. Abbiamo pensato invece di fare l'effetto contrario, di rinunciare a questa partnership, perché pensavamo che fosse un segnale non proprio coerente con quello che volevamo dare come Sciclub rispetto alle famiglie e ai bambini e poi anche al mondo master che vuole divertirsi. Perciò, a fatica, devo rinunciare a qualcuno che ti vuole dare un contributo, fai fatica, però in questo caso qua abbiamo fatto una scelta di privilegiare quello che è una certa ostile, eticità che volevamo portare avanti come Sciclub club come comportamento. Spero che i numeri che andremo poi a realizzare quest'anno ci diano ragione. Comunque le premesse ci sono, l'anno scorso c'era condizione meteo difficile, una bella nevicata, 800 atleti master, over 30, fino agli 80 e oltre, è un bel numero. Sì, devo dire che ci proietta comunque per i dati 2018, per il terzo anno consecutivo come la prima manifestazione in Italia della federazione, pertanto anche l'anno scorso infatti venne sia il presidente Roda che anche Dalpez, come vicepresidente, a fare le premiazioni, a confermare appunto questa importante manifestazione che ormai penso che sia dato un appuntamento annuale, tradizionale per il mondo master e che pertanto certifica anche la quantità di persone master che vogliono continuare a fare agonismo e stare un pochino nell'ambiente. Cosa che vorremmo partire anche dal basso. 800 persone, questo è il momento delle premiazioni con Roda e Dalpez che hai appena nominato, premiarli tutti ci vuole... o premi per tutti? No, ci sono premi per tutti perché i premi li daremo a tutti in questo caso qua. Diciamo che ci vuole una bella organizzazione anche come ufficio gare. Questo per fortuna devo dire e sottolineo che abbiamo uno staff di circa 38 volontari che vanno dalla parte del villaggio ma anche dalla parte proprio operativa e tecnica per permettere che tutto si possa svolgere in tempi veramente rapidi e perché chiaramente poi la domenica tutti vogliono andare a casa al pomeriggio pertanto dobbiamo permettere un rientro in tempi utili ma devo dire che finora i numeri ci sono stati positivi. Grazie a Carlo siamo in chiusura finisce questa sesta puntata di S4 il talk show di Sportador.tv la multipiattaforma tv e web dedicata al turismo e allo sport ringrazio chi ci è venuto a trovare e a parlare di questa stagione importante del mondo della neve della montagna e degli sport invernali Cristian Gasperi direttore delle funivie di Folgarida e Marileva grazie di essere venuto Diego Clara di Alplan Evans la società di San Vigio di Marebbe che organizza grandi eventi sportivi Coppa del mondo e Coppa Europa nella splendida località Alto Attesina grazie Diego grazie a Ruggero Ghezzi della schiare della Paganella che è venuto a trovarci anche questa settimana per parlare di questa bellissima schiare e poi all'amico Carlo Rodolfi dello Sciclub Guastalla uno degli sciclubi più importanti d'Italia che vi aspetta 15, 16 e 17 di marzo in Val di Fiemme per le finali della Coppa Italia Master 800 atleti dai 30 agli 80 anni presenti in questa importante località tolistica del Trentino noi ci vediamo settimana prossima stessa ora stessa frequenza potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Omobon stessa frequente stessa frequente